A seguito delle indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Civitanova Marche e della squadra mobile della questura di Macerata, è stato arrestato un uomo di 33 anni, di origini pugliesi, ma residente a Civitanova Marche. Secondo gli inquirenti, il giovane è responsabile di detenzione di arma clandestina, in quanto nella sua abitazione è stata trovata una pistola di fabbricazione russa con matricola a brasa, completa di caricatore e relativo munizionamento sequestrata. L'arrestato, già noto per reati contro la persona, era al centro di un'indagine dopo che aveva minacciato un civitanovese, il quale, intimorito, si era rivolto al commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova, diretto dal commissario capo Fabio Mazza. In un altro locale, in uso al giovane, è stata rinvenuta una pistola beretta simile al modello in uso alle forze di polizia, anch'essa sequestrata. L'arrestato è stato condotto a Montacuto.